Arrestato a Dubai, un noto narcotrafficante, esponente di spicco della criminalità albanese romana, è già inserito nella lista delle attitanti pericolosi. Il cittadino si era rifugiato negli Emirati Arabi dopo essere evaso a dicembre 2023 da una comunità di recupero, dove era stato ristretto in esecuzione di una condanna a una pena definitiva, inflitta di in primo grado, per traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione è il frutto della cooperazione internazionale, promossa dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, con il supporto dell'ufficiale e del Corpo Esperto di Sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, sotto il costante coordinamento della DDA Capitolina. Nell'ambito della cooperazione sono state condivise informazioni sulla localizzazione del narcotrafficante, favorendone così il rintraccio operato direttamente dalla Polizia di Dubai. Nonostante la fuga in territorio estero, la Guardia di Finanza, nel quadro delle molteplici indagini disposte dalla DDA di Roma, ha acquisito diversi elementi di conoscenza sugli spostamenti e sulla localizzazione dell'evaso, ha intrattenuto specifiche ed efficaci interlocuzioni con i componenti organi collaterali. L'uomo, all'esito del relativo iter di estradizione, sarà accompagnato nel nostro paese dove potrà scontare la pena detentiva.